le energie se ne vanno presto cerchio e seno attraverso nt alexander eccomi di nuovo a voi purtroppo come ho detto poc'anzi le energie se ne vanno presto e poi mancano dei giovani e quindi c'è ancora più carenza vero perché ricordate le energie che potevano essere usate per il dialogo tra noi è stato un dovere morale di darle in parte al nostro amico va bene